Buonasera Moses Naim, direttore di Foreign Policy in collegamento da Washington. Allora, che cosa cambia adesso che Castro ha deciso di passare la mano? Veramente non cambia molto. Quello che è successo è che si è formalizzata ufficialmente una situazione che già esisteva, dove lui non era ufficialmente a carico del potere, ma continuava a avere una significativa influenza. E si spera che continui a averla, anche se formalmente non abbia il titolo, la carica di Presidente del Paese. Ecco, Naim, oggi è una giornata importante per la politica estera. C'è anche un'altra questione che ci sta a cuore ed è il Kosovo. Mosca mette in guardia l'Unione Europea dal riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Ecco, come andrà a finire, secondo lei? Probabilmente ci sia una consolidazione del Kosovo. È molto interessante vedere come ci retrotrae a delle circostanze che pensavamo superate della guerra fredda, dove la Russia e gli Stati Uniti hanno visioni completamente differenti, dove anche l'Europa, infatti, ha delle visioni differenti, non per ragioni della guerra fredda, dove sappiamo che la Russia non è d'accordo con questa indipendenza, invece gli Stati Uniti l'hanno appoggiata. Ma poi nell'Europa ci sono altri paesi, ci hanno le loro proprie preoccupazioni con le secessioni, con i paesi che... sto pensando la Spagna, i paesi baschi. E allora tutto quello mette in contesto la posizione di differenti paesi europei, dove non c'è una unità verso come riconoscere o se riconoscere il nuovo paese del Kosovo. E poi c'è anche il Pakistan, alleato degli Stati Uniti nella guerra al terrorismo. I partiti di opposizione hanno di fatto sconfitto Musharraf, il generale Musharraf. Ecco, allora cosa succede? La campana suonerà anche per lui o resisterà? Sì, non solo è stato sconfitto Musharraf, è anche stata sconfitta la posizione degli Stati Uniti, non c'è dubbio che questo è un cambio importante, ma in queste elezioni una delle cose che vedremo è come le elezioni non portano più stabilità, ma aggiungono l'incertezza e conflitto e instabilità. Non c'è dubbio che il presidente Musharraf tratterà di continuare a controllare il potere, ma gli sarà molto più difficile e forse in effetto stiamo cominciando a vedere come finisce l'era di Musharraf in Pakistan. Grazie a voi. Grazie a voi.